Tu parlavi delle esigenze, ma a cosa ci serve capire bene le esigenze del cliente? Allora, possiamo dire che la soluzione dà sicuramente una mano all'azienda a risparmiare e a guadagnare. Risparmiare sulle multe, perché puoi verificare la velocità dei mezzi e spesso le aziende ricevono delle multe per eccesso di velocità, per divieto di sosta. Quindi il titolare può andare a verificare effettivamente la multa, a volte può essere anche non reale e quindi poterla contestare, perché parliamo di una soluzione certificata a tutti gli effetti. O poi guadagnare anche di inefficienza, inimmagine, sicurezza dei mezzi aziendali. Quindi le esigenze possono essere effettivamente tante e varie rispetto proprio a quello che fa l'azienda. Quindi il nostro compito è quello di capire effettivamente il problema che ha l'azienda e di dare una soluzione.